Circa due anni fa il teatro Aminto Regalli ha riaperto le sue porte dopo 75 anni da quei devastanti bombardamenti del dicembre del 43 che lo avevano gravemente danneggiato. È una storia speciale quella che lo distingue fin dalla sua nascita. Sì perché Giuseppe Verdi scrive appositamente per il nostro teatro nuovo Laroldo, una sua prima assoluta per una inaugurazione, come non è mai successo per nessun altro teatro di nessun'altra città in Italia. Era il 16 agosto del 1857. Per realizzare un'idea grandiosa di teatro da capitale viene chiamato uno degli uomini di punta dello stato pontificio, quello che si direbbe oggi un archistar del suo tempo, Luigi Poletti, che riesce a progettare un teatro che è anche un prodigioso capolavoro architettonico. Così allo scultore Pietro Tenerani viene affidato il compito di realizzare il busto di marmo raffigurante Luigi Poletti. Purtroppo le rovine dei bombardamenti e gli anni difficili della ricostruzione hanno impedito al busto di Poletti di trovare il posto che si merita negli spazi prestigiosi della sua creazione. Ma noi gli siamo tutti debitori e lo vogliamo liberare dall'esilio solitario in una cassa protettiva che lo ha costudito premurosamente in tanti anni. Vogliamo restaurarlo e riportarlo a vista fra le grandi colonne del foyer, quelle che Poletti aveva pensato per accogliere il suo pubblico, quel pubblico che oggi si aspetta di ritrovare e ammirare il busto di Luigi Poletti ogni volta che varcherà la soglia del suo e del nostro incomparabile teatro.